messaggi di sensibilizzazione sulla tutela ambientale su oltre 4 milioni di buste di latte è stata presentata da Malfi la campagna denominata il mare il nostro impegno campagna promossa dalla capitaneria di porto di salerno guardia costiera in collaborazione con la centrale del latte una sinergia che converge sul rispetto dell'ambiente marino il mare come risorsa come di porto come pure esperienza di vita e sulla tutela dell'ecosistema la capitaneria mette a disposizione della collettività il proprio patrimonio tecnico e culturale in materia di tutela dell'ambiente marino mentre la centrale del latte di salerno amplifica con i propri prodotti un messaggio istituzionale non so come ringraziare la centrale del latte perché per il secondo anno sponsorizza questa iniziativa che credo unica in Italia in cui un messaggio di progresso viene veicolato attraverso milioni di confezioni di latte un non salernitano innamorato di salerno e della sua provincia e del mare di salerno sì mi sono innamorato di salerno mi sono innamorato della provincia di salerno è stata un'esperienza emozionante lavorare qui da voi è un mare splendido sì un mare splendido però è un mare che ha bisogno di attenzione, di cura, di tutela di un po' di salvaguardia e quindi anche di messaggi che noi veicoliamo quest'anno con la centrale del latte un messaggio rivolto ai più giovani evidentemente lo sviluppo di una città di mare come Amalfi, prima Repubblica Marinara certamente si fonda quasi esclusivamente sul mantenere quel rapporto tra ecologia e ambiente e sviluppo turistico che è il fondamento insomma delle nostre economie sicuramente queste iniziative soprattutto così ben organizzate dalla centrale del latte soprattutto che ci fa da sponsor in questo ben orientata proprio nella salvaguardia di quello che è il sistema marino bene, squadra vincente non si cambia abbiamo avuto un grande successo la scorsa estate con l'iniziativa sulla prevenzione in mare sui regolamenti, sul rispetto delle leggi marittime per i diportisti quest'anno abbiamo cambiato tema ma la collaborazione con la Capitaneria è sempre decisiva nel senso che lanciamo sette messaggi per mantenere le spiagge pulite